Dal cubismo all'espressionismo astratto, l'arte della prima metà del XX secolo tra nuove visioni e nuove rappresentazioni del mondo. Un corso per avvicinarsi all'arte moderna tenuto da Fabrizio Parachini. Un corso costituito da quattro lezioni più un incontro introduttivo, lezioni che vogliono presentare sinteticamente le principali idee e le pratiche espressive che hanno sorretto alcuni movimenti e tendenze artistiche della prima metà del XX secolo. Dopo l'impressionismo della seconda metà dell'Ottocento e il post-impressionismo costituito da figure importanti quale quella di Cézanne, di Serrat, ma anche di Van Gogh e di Cézanne, in Europa, tra Europa e America, si sono succedute a ritmo serrato quelle che sono state definite le avanguardie artistiche storiche del Novecento. Gruppi e movimenti che forse, per la prima volta, hanno prodotto oltre a opere plastiche di grande interesse anche idee, teorie e riflessioni a sostegno del proprio operato e della propria espressività. Penso si possa dire che dopo secoli di pratiche d'arte, peraltro sempre in evoluzione, il voler fare è diventato più importante del saper fare, ovvero il voler creare nuovi mondi visivi è diventato più importante del saper raffigurare aspetti del mondo esistente. In queste lezioni parleremo del cubismo che unitamente al futurismo ha ridiscusso l'idea di forma e di volume e la loro relazione con lo spazio, ma parleremo anche dei fove, degli espressionisti, artisti che hanno svincolato il coloro dalla loro, dalla sua dipendenza dal reale, evidenziando la capacità di un'espressività personale, propri. Ma parleremo anche del dadaismo che ha rivelato che è possibile fare arte anche con metodiche e materiali antitradizionali, ma soprattutto che l'arte può avere un'azione sociale. Poi parleremo del surrealismo che ci ha fatto capire che esistono realtà altre, oltre a quella che crediamo, e sottolineo crediamo di vivere tutti i giorni, e sono realtà altrettanto importanti e condizionanti il nostro mondo, il nostro modo di agire. Poi parleremo dell'astrattismo che nel proprio percorso di affermazione ha saputo creare un linguaggio espressivo diverso, direi nuovo, capace di creare un nuovo mondo non oggettivo e non figurativo, un mondo autonomo, direi. Successivamente l'ultima lezione sarà dedicata all'espressionismo astratto e all'informale europeo, tendenze che hanno esplorato nuove potenzialità insite nei codici espressivi dei movimenti che li hanno preceduti, dando risalto all'opera d'arte come emanazione dell'interiorità dell'artista in dialogo con una modernità in continuo e rapido mutamente. parleremo di artisti come Paolo Picasso, Georges Braque, Piet Mondriano, Emilio Vedova, Jackson Pollock, Barnett e Newman. Il titolo delle lezioni è questo, la prima, mercoledì 10 maggio, quella di introduzione, Chi ha paura dell'arte moderna e contemporanea? Un titolo interrogativo che vuole proprio mettere in evidenza come l'arte moderna e contemporanea di primo acchietto può allontanare lo spettatore, ma in realtà se ben analizzata invece riesce a scoprire, a svelare aspetti estremamente importanti. Poi mercoledì 17 maggio, Cubisme Faux, l'analisi della forma e del colore diventa protagonista dell'opera. Mercoledì 24 maggio, Dada e Surrealismo, un viaggio oltre i confini della realtà quotidiana. Mercoledì 31 maggio, Astrettismo, un nuovo mondo rappresentativo che apre altri orizzonti del reale. Mercoledì 7 giugno, Informale e espressionismo astratto, mettere l'uomo al centro della pittura. L'obiettivo è quello di mettere in primo piano le idee, i pensieri, le dichiarazioni che hanno cambiato il mondo dell'arte e che hanno portato a quelle opere, spesso non completamente accettate o travisate nei loro intenti, che caratterizzano invece la nostra contemporaneità.